Nell'Assemblea Generale della Consulta dei Giovani è stato eletto Cristiano Liardo come componente dell'Ufficio di Presidenza in rappresentanza dell'Associazione Consumatori Piemonte. Dopo le votazioni la consulta ha approvato il piano di attività per il 2013. Primo appuntamento il 9 maggio a Palazzo Lascaris per il convegno Minori e Informazione, a cui interverrà anche Don Luca Peiron, delegato del Vescovo di Torino per la Pastorale Giovanile. Sono contentissimo del risultato raggiunto, che ovviamente non ho raggiunto da solo, ma con l'aiuto di tutti i ragazzi che mi hanno voluto sostenere. Come ho detto nella plenaria e ribadisco adesso, sarò disponibile ad accettare qualsiasi proposta di qualsiasi progetto giovanile, ma soprattutto non di colore politico, e continuerò a sostenere i progetti che ho già proposto io ed sono stati messi all'interno del piano di attività della consulta regionale dei giovani. Grazie.